Non c'è pace per gli impianti di risalita dei prati di Tivo. Quando tutto sembrava concludersi con la vendita degli impianti dalla Gran Sasso Terramano, la società in liquidazione proprietaria dell'attrezzatura alla Finori SRL e la cui formalizzazione dell'atto era fissata per il 30 settembre scorso dinanzi al notaio, è arrivato il ricorso da parte del Comune di Fano Adriano, che si è appellato al Consiglio di Stato chiedendo danni alla Gran Sasso Terramano per oltre 500.000 euro. Decisione quella del Comune che ha portato sia ad un blocco dell'iter di cessione degli impianti, ma anche alle dimissioni del commissario liquidatore della GST, Gabriele Di Natale. È grave quello che sta accadendo a due giorni dalle firme dei contratti per la cessione degli impianti, per una gestione definitiva, senza più che seggio Gabinovie e altri impianti saliti si fermassero mai, è arrivata l'ennesimo ricorso del Comune di Fano Adriano al Consiglio di Stato, perché forse oramai le vicende sono tante, avevano già perso al Tarre e hanno fatto un ennesimo ricorso al Consiglio di Stato. Ancora più grave che il Comune di Fano Adriano è socio della Gran Sasso Terramana. Adesso credo che la misura è colma, dovremmo anche informare gli organi competenti, perché c'è un chiaro segnale di fare altro. Noi lo avvertiamo, lo avvertivamo da tempo, diciamo che non c'è pace. È grave perché possiamo già puntare con la stagione invernale, invece adesso nuovi ricorsi, non possiamo chiudere, fare l'atto dal notaio per le cessioni, per la vendita e per la nuova gestione. Sarà compromessa anche la gestione invernale. Immaginate quanti danni la nostra provincia ha avuto quest'anno, tant'è che l'Avvocatura nostra sta facendo già gli atti per far pagare agli enti che stanno creando questo disagio. È miserabile che 3, 4, 5, 6, 7 persone della provincia di Teramo stanno determinando il blocco del Gran Sasso d'Italia, perché quella è la montagna dell'Italia, dell'Europa intera e con le loro brutture amministrative, per piccoli giochi, per piccole briciole dico io, non lasciano spazio ad una visione strategica di turismo aperto alla provincia, alla regione, all'intera.